Ciao sono Federico Cattaneo e faccio i 100 metri. L'atletica per me è uno sport che mi ha dato molte soddisfazioni. Sono riuscito ad indossare la maglia azzurra ed è una sensazione bellissima che auguro a tutti quanti. Piste mondo ne ho calcate alcune nella mia vita e devo dire che c'è stata un'ottima sensazione, un ottimo feeling. Prestative, non portano dolori e anche per gli allenamenti sono molto belle. I prossimi obiettivi europei e sono nel cassetto olimpiadi.